Bella Bella questa Paro Porco Porco Colidi O spezziano dai Me tocca raga Me tocca O fluidi Cosa c'è domani? Fondi da 80 in difesa Nesta manta Kamadoska Veli di gatto Zabato entra dopo Di Malinowski Dai E' il momento gente Dell'aperitivo Il gioco aperitivo Si Augurano buon divertimento Comincia ufficialmente La serie A Per queste due squadre A caccia nei primi tre punti Per iniziare La loro avventura Nel migliore dei modi Sarà una gara davvero Che atmosfera Sugli sport Non potrebbe Essere altrimenti La puntata Di quelli che Vengono sottolineati Sul calendario Nessuno è voluto Mancare oggi Infatti Perché? Perché si apre ufficialmente La stagione E' la prima gara di campionato L'emozione è enorme E' L'emozione è enorme E' l'emozione è enorme L'emozione è enorme E' il gioco E' il fruibron E' melo da recovered La benzina comincia così la partita eh sono fluidi eh tanta tanta sicura è buggata siamo fatta la Champions League fino a porco diciamo capito la Champions League ha finito ci addia buggatissima maledetti che era la finale col tanto io lì ci c'erano passate perché avrebbe preso un'altra volta ah sì occhia a Gutt e a Salseto perché non c'è sanno i nomi sotto adesso sto a guardar perché stanno sopra sopra dove ah sotto dici sotto tutto sanno come si fanno a me signore come si fanno a me stazioni di gioco no ma prima c'erano no c'erano prima sì non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano vieni per saltare radar il cuore radar sì la tua reddita ma sì ma c'erano prima mi pare è andato direttamente in porta quando forse c'erano soluzioni migliori ma c'erano soluzioni migliori e legge sopra a parte pure meiuse freuler ecco cosense prova era difficile battere il portiere da lì peccato perché la potenza c'era è mancata completamente la mira attenzione perché sto spezia a regala muriel attenzione perché solo non è finita la mette in aria ma mia bobby come curio c'è pressing sul portatore di palla capitano più scarso del mondo verde o la verde non è centrale se buttano storti va in zona questa è tua a mezzo la mente fuori su questo corner al culo e ciao ciao muriel guarda la merda sempre lui come ti rasegno possiamo rivedere l'azione del gol una ripartenza da manuale ma poi calciato forte dalla media distanza il portiere non ha avuto il tempo di intervenire ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro la dovevi accendere avanti della situazione ma vi trovo l'arbitro per questo intervento avrete ma non controlla Prova con il lob A mettere in moto il compagno Viene avanti e parla al piede Covalenco Portiere super Intervento prodigioso Abbassato la saracinesca Da qui non si passa Corre in aria C'è andata di testa Conclusione che si è persa Larga Deve aver chiuso gli occhi Al momento dell'impatto Perché non mi spiego Una conclusione del genere Non ha dato direzione alla palla Su YouTube Non c'è stato un grande possesso palla Da parte della formazione Ma mica si vede male Ma questo dimostra Che nel caso Da un po' che No nessuno scatta Guarda il riga per terra Uri La strada E rivediamo ancora il gol Ha superato bene il proprio marcatore Non poteva sbagliare da qui Aveva tutta la porta davanti Che cosa ha fatto Nicolau Ciao Addio Si pensavo che aveva tirato fuori Merda Pure io Mo' io metto una palla a mano Allora Zolana Non hai toccato un pallone Uno Nula La manovra interrotta senza problemi E lo toccasso Lo sapevo il suo magno Le vedevo Dalla prossima non vale Usa Muriel Tutta la squadra avversaria Era già pronta a risultare Non devono averla presa bene Che gli è bene il tempo E ruba palla Passate a dimenticare Palla regalata agli avversari Ma non tornare dietro Grevino Covalenco Ahia come va Ah che c'è l'anzolano E l'Udrogord Mi ha pulsato e scureggio Situazione complicata per la difesa Si oppone ma non è finita E' dalla fine della prima frazione Dunque Due a zero Male male Senti a pulsare Makedonald E' morto E' morto E' tutto pronto Comincia il secondo tempo Ma dei bravi E' brutta Da giocasso E' brutta 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 Per la ripartenza Buona qui La copertura E' brutta E' brutta E' brutta E' brutta Con l'inganno Con l'inganno Occhio all'avanzata Pallone importante Per provare a riaprire Fingila dentro Per Dio Verde Un velo incredibile E' brutta E' brutta Non è passata No No Ho visto E' brutta E' brutta Stamina Dai Sblocca anche perdere il punteggio ha cambiato ora siamo sul risultato di 2 a 1 tocco profondo a scavalcare la difesa si è cascato con la scarpe ma prova del lavoro un super eroe poter atto in molti avrebbero preso con la distanza occhio al cross in mezzo ma la sorpresa troppo forte un commento che cazzo fai io ho elogiato adesso grande calcio protagonista sulle frequenze incredibile è pazzito super parata che mantiene i ponteggi in attenzione a costa dalla paio e ribada circostante dell'uno come da subito chi ha vinto il campionato come ne è uscito la grandissima cornea non produce risultati maggiore appunta mano bastardo penoso porco di questo sarà da tutte le parti ecco è una prova del ancora lui vuole la scossa e questa sostituzione per lui può essere utile intervento così a covalenco che partita che sta facendo o valenco l'arbitro lascia correre pallone gestito male riconsegnata agli avversari bravo il pallone lo fa suo occhio al tentativo o la cutelo ancora cutelo si lanciano negli spazi attenzione tutto boom no verde vicino alla doppietta un intervento da campione questo te l'ha mangiato occhio al canzolano bravo palla in out ci sarà la tush la rimessa laterale buttate per terra ecco cosa bravo è un coglione bravo nicolau possono ripartire attenzione tanzolau che culo tanzolau 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 sei un coglione fuori fuori pure rotta muriel mannaggia la puttana tanzolau tanzolau grave responsabilità dell'attaccante poteva fare qualsiasi cosa e invece 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 sono un coglione rottomuria dai che può colpire da lì questo è tutto proprio manco un giallo vabbè fortuno pure per Gosend tutti infortunati tutti infortunati la chiude ma stanca strada stai inseruto no no ti scarpi uguali guarda l'arbitro concede due minuti di recupero maggiore non può fare nulla insiste nella situazione maggiore non può fare nulla a parte un euro goal decisivo qui l'intervento del portiere che ha salvato tutto non ferma un attimo qua si è davvero superato è ancora lì pericolo che quello era qua da partito marino di casa da partito marino